Sì, oggi è una giornata importante, questa di oggi e quelle che succederanno fino alla fine dell'anno perché oggi firmeranno il contratto 50 nuovi assunti per lo scorrimento di una gradatoria di un concorso fatto nel corso del 2023 e a seguire nei prossimi giorni fino a fine anno ci saranno altri contingenti di nuove firme di contratti di 75 persone, di altri 57 persone ci sarà la stabilizzazione di 6 persone che sono state selezionate dall'agenzia di coesione ci sarà l'assunzione di 31 invalidi civili per i sensi della legge 68, cosa che la Regione Calabria non faceva da decenni e che consentirà alla Regione di essere finalmente in regola anche nel rispetto della legge 68 ci sarà l'assunzione di 6 operatori di categoria B dall'elenco delle vittime della criminalità organizzata e del dovere insomma tutte queste iniziative e queste firme di contratti che avverranno da qui a fine anno prevede complessivamente l'intromissione, l'introduzione in cittadella di 280 persone nuove unità nuove, funzionari di categoria D, istruttori amministrativi di categoria C e anche operatori di categoria B il che vuol dire dare veramente un'importante ventata di area nuova in cittadella, negli uffici amministrativi io so che il Presidente regionale, il Presidente Occhiuto, tiene molto al rinnovo e al potenziamento degli uffici della Regione perché come dice sempre la maggioranza e l'80% dei procedimenti amministrativi della Regione Calabria sono svolti in cittadella e quindi c'è oggi un non corretto dimensionamento del personale tra cittadella e uffici regionali a discapito della cittadella, negli anni scorsi per effetto di pensionamenti gli uffici dei dipartimenti si sono impoveriti oggi con queste assunzioni cerchiamo e diamo un'importante ventata di novità e introduzione di linfa nuova perché tutti ragazzi, giovani, laureati o anche non laureati ma che comunque hanno superato un concorso soddisfatti e contenti di poter entrare e lavorare per la Regione Calabria questo per me è un importante segno del risultato di tutto il lavoro che è stato fatto anche nel corso del 22 e del 23 in particolare continueremo nel 24 perché nel 24 si chiuderà l'ultimo grande concorso che abbiamo fatto per l'assunzione di 80 amministrativi, stanno per partire 925 colloqui che si svolgeranno a Roma presso il Formez, colloqui che daranno a noi la possibilità poi di avere una graduatoria di 80 persone da cui prenderemo le 80 persone previste più altre 70, quindi ci saranno altre 150 assunzioni nei primi mesi del 2024 tutto questo completa il piano del fabbisogno che avevamo previsto, approvato in giunta nel settembre del 2023 quindi io da questo punto di vista sono molto soddisfatto, il Presidente e io abbiamo portato i saluti ai nuovi assunti perché gli diamo il benvenuto ed è un'importante giornata, questa di oggi e quelle future fino alla fine dell'anno avete spesso rivendicato anche il metodo, no? come poi questi ragazzi sono riusciti a diventare abbiamo la volontà del Presidente e anche quella del sottoscritto è stata sempre quella di portare avanti i procedimenti assolutamente trasparenti e per questo motivo abbiamo affidato tutto o al Formez o addirittura alla funzione pubblica che vuol dire il RIPAM cioè l'organizzazione dei tre ministeri che serve a gestire tutte le assunzioni della PA questo ci ha consentito di, diciamo, estragnare la cittadella, la regione dai procedimenti in maniera tale da essere assolutamente tranquilli sulla correttezza dell'operato delle commissioni che sono state composte esclusivamente da personale della Funzione Pubblica Nazionale quindi nessun calabrese, nessuna provenienza della cittadella e infatti devo dire che non abbiamo avuto nessun problema, nessuna segnalazione di eventuali problemi o intromissione da parte di chi che sia e questo credo che sia un segnale molto importante perché vuol dire che anche da noi in Calabria come dice sempre il Presidente, è possibile fare le cose fatte bene puntando sul merito e sulla valenza delle persone direttamente senza nessun altro tipo di intromissione della politica o di chi che sia grazie 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 grazie